L'assessore Brignano è già proiettato verso la prossima estate, però ci sono delle andiamo avanti un po' sigliozze, lockdown, zone rosse, zona rancione. Nel frattempo state pensando a qualche iniziativa importante e lei ha proposto qualcosa di impegnativo e interessante. Sì, abbiamo chiesto e ho chiesto che un capogruppo in regione facesse una proposta per poter far sì che gli operatori turistici delle varie località turistiche della regione potessero essere vaccinati naturalmente dopo i soggetti a rischio tra i primi proprio per cercare di rendere le nostre località sicure e poter fare anche una promozione delle località basandoci proprio su Viene a Lignano, zona città anche covid free. A questa nostra idea si è aggiunta anche Grado, ci fa piacere, anche perché noi vediamo che c'è tantissima voglia di mare da parte dei turisti e quando siamo aperti sabato e domenica vengono giù, ci fanno le loro belle passeggiate sulla spiaggia ed è un peccato che le nostre località rimangano vuote in periodi come questi. Per esempio semplicemente a Lignano di quanti operatori stiamo parlando? Circa 12.000 ma forse anche qualcosa meno perché qualcuno ha già preso il covid, qualcuno è già stato vaccinato per via dell'età e quindi forse saranno 10.000 vaccini che potrebbero servire per vaccinare tutti gli operatori e naturalmente anche i dipendenti degli operatori perché il virus lo si può trasmettere involontariamente anche da parte di un dipendente e quindi noi vorremmo che siano tutti, tutte le persone tranquille. Bene, è un po' più interessante che porterà un'altra volta all'allanguardia, vediamo e speriamo bene no? Sì, l'idea ha avuto consenso da parte di tantissime persone e noi essendo anche il comune turistico più importante della regione ci siamo sempre posti in prima fila per cercare di salvaguardare gli interessi del turismo non solo locale ma di tutto il turismo regionale.